Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo condividere una notizia insieme a voi che ho letto sul sito web National File. Volevo condividerla insieme a voi perché penso possa essere uno spunto di riflessione, un articolo su cui poter riflettere. La notizia in questione risale al 9 settembre, o meglio su questo National File è stata riportata il 9 settembre e riguarda un evento molto molto strano che sta avvenendo negli Stati Uniti e precisamente in Georgia. Allora ragazzi, delle carcasse di capra decapitate sono state trovate nel fiume, a galleggiare nel fiume Chattanucci. Quindi lì sono state trovate queste capre decapitate mentre galleggiavano nel fiume. Molte persone del luogo hanno anche parlato, c'è proprio un signore del luogo che ha fatto arrivare ad una tv, precisamente WSB TV Channel 2 Action News, ha fatto recapitare questo video in cui si vedono queste carcasse galleggiare e addirittura questi strani individui buttare queste carcasse in questo fiume. Anche se devo dirvi che ad oggi il tutto rimane un mistero. Rimane un mistero per cui non si sa che cosa accade a queste capre, o meglio si sa che vengono decapitate, però non si sa per quale motivo, non si sa da chi e non si sa nemmeno l'identità di coloro che vanno a buttare queste capre nel fiume. Il tutto sembrerebbe appartenere ad un rituale, ad un rituale comunque negativo. Alcuni pensano si potrebbe trattare addirittura di un rituale satanico. Una cosa è certa, che quando si parla comunque di rituali, di sacrifici, di animali e non solo, anche il testo biblico ne è pieno, perché lo stesso Yahweh esigeva dei sacrifici. Per cui poi nella Bibbia c'è veramente un passo molto molto esteso di come dovevano tagliare l'animale, di quali parti dovevano offrire, di quali parti dovevano bruciare. Insomma, il sacrifici di animali e non solo, per oggi ci concentriamo su quelli di animali, diciamo che fanno parte del passato, ma sono anche presenti ai giorni nostri. Perché anche oggi si vanno a compiere dei rituali satanici, o comunque dei rituali molto molto negativi, in cui purtroppo viene sacrificato l'animale. In questo caso parliamo di capre, di capre che sono state viste galleggiare lungo questo fiume. E un giornalista proprio di Channel 2, Dave Haddelson, insieme a Jason Alsett, che praticamente lavora per il gruppo ambientalista Chattanoci River Keeper, mentre stavano viaggiando lungo questo fiume, hanno proprio visto con i loro stessi occhi una carcassa di capra decapitata galleggiare in questo fiume. E poi ne hanno viste altre vicino ad un ponte, al confine, con la contea di Cobb. Nel video i due incontrano più di una carcassa, e uno dei due ha dichiarato che ultimamente questo fenomeno è diventato molto più frequente. E venerdì eravamo qui, e ne abbiamo visti 30 galleggiare lungo il fiume. Quindi 30 carcasse di capra decapitata galleggiare nel fiume. Un testimone, quindi un uomo che vive appunto lì, nei pressi di questo fiume, ha addirittura fornito un video, un video che comunque lui aveva realizzato con il cellulare, di alcune capre che venivano scaricate nel fiume da un ponte. Quindi sicuramente c'era qualcuno che scaricava queste capre nel fiume. E il video mostra appunto queste capre che venivano buttate nel fiume, capre che proprio schizzavano in questo fiume. Una cosa veramente, veramente aberrante. Alset, proprio l'uomo che fa parte di questo gruppo ambientalista, ha dichiarato queste capre devono provenire da qualche parte, ma non siamo stati in grado di determinare chi le compra, chi le fornisce, e come vengono gettate nel fiume. Alcuni pensano che il tutto possa essere comunque collegato a dei rituali, rituali in cui appunto è comunque richiesto il sacrificio di sangue. Nel 2019, tra l'altro, quindi non è soltanto una notizia di questi giorni, ma già nel 2019 Channel 2 Action News ha riportato anche la storia di persone che lanciavano, praticamente lasciavano, polli morti proprio vicino ai binari della ferrovia della metropolitana di Atlanta. Quindi addirittura anche queste persone che lasciavano dei polli morti vicino ai binari di questa ferrovia. Quindi non è un caso isolato, non è che è accaduto esclusivamente in Georgia, no? Proprio lungo il fiume Chattanucci, no? E' accaduto anche ad Atlanta, che è comunque sempre lì. E' accaduto anche ad Atlanta, proprio questo episodio di polli morti lungo la ferrovia. Si scoprì che, ragazzi, il tutto era parte di una cerimonia di tipo religioso, una cerimonia di tipo religioso molto molto specifica. Il sacrificio di animali comunque non è cosa nuova perché vengono sacrificati tantissimi animali, come ben sappiamo non soltanto animali. E questo articolo mi ha particolarmente colpita perché io immagino questi due che viaggiano lungo questo fiume e ad un certo punto incontrano queste carcasse di capra decapitate. Tra l'altro comunque, voglio dire, più di 30 carcasse di capra in un fiume deve essere una cosa da film horror o che addirittura supera pure un film horror perché deve essere uno scenario davvero molto molto triste, inquietante, abberrante, truculento, che più ne ha più ne metta. Voi che cosa pensate? Pensate che il fenomeno sia più che altro legato, non so, fatemi sapere voi, ad un rituale, ad un rituale di tipo religioso. Se andate comunque a leggere l'articolo su National File, lì vi danno altre informazioni. Il mio vuole solo ed esclusivamente essere uno spunto di riflessione. Anche lì si parla comunque di una religione, di questo culto che prevede appunto il sacrificio di sangue legato a questa religione che lo richiede. E qui mi fa veramente il tutto a caponare un po' la pelle perché sappiamo benissimo che tutte queste cose legate al sacrificio di sangue appartengono all'ambiente arcontico, alla loro mentalità malsana, a loro agire in modo totalmente privo di empatia, di qualsiasi amore, emozione, sentimento. Per cui è una cosa curiosa. Io, ragazzi, un giorno quando ero ragazzina, più piccola, mi è capitato di, proprio qui in Polonia è accaduto, e mi è capitato proprio di passeggiare vicino ad un bosco ed ero proprio andata in lì, proprio nel profondo del bosco. Stavo quasi per raggiungere un'altra, in Italia le chiamiamo frazioni, un altro paesello, ma sempre in biano, ma sempre comunque andando per il bosco, e ho visto lì più di 20 carcasse. Non mi ricordo, probabilmente erano corvi, ero ragazzina veramente, adesso non mi ricordo, probabilmente erano corvi, ma ne ho visto tantissimi lì morti. Ovviamente, in questo caso, si potrebbe trattare di qualsiasi cosa, perché comunque, non so se lo sapete, ma gli animali stanno completamente perdendo il loro radar naturale. Sappiamo benissimo che gli animali hanno un radar naturale che permette loro anche di raggiungere, di fare grandi distanze e poi raggiungere sempre il loro punto di partenza, quindi la loro casa. Pensiamo, per esempio, alle rondini, che giungono, arrivano nei paesi caldi, e poi nel momento in cui l'inverno comincia, ma anche l'autunno vanno via, e quindi ritornano, ovviamente, nei paesi caldi, eccetera, eccetera. Molti animali sono stati trovati in luoghi dove prima non se ne erano mai visti, animali che comunque non fanno parte di quell'ambiente, di quel clima, eccetera, eccetera. Quindi, gli animali stanno perdendo, a causa di questa tecnologia super avanzata, che ovviamente viene utilizzata in modo negativo, stanno perdendo proprio il loro radar naturale, e quindi sempre più animali si stanno perdendo. Probabilmente questi corvi, perché era comunque, me lo ricordo, un volatile nero, nero, e io so che i corvi sono completamente neri, e adesso non mi ricordo la specie proprio con precisione, però ricordo che ce n'erano veramente tanti, tanti, e la cosa mi ha molto, molto inquietata. Poi probabilmente quei corvi erano stati lì ammassati da qualcuno, da qualcuno che è lì passeggiando per il bosco, li aveva semplicemente levati dalla stradina principale e messi lì. Però è stato veramente un qualcosa di angoscioso ed agghiacciante, che per me, figuriamoci, all'epoca era soltanto una ragazzina, mi immagino navigare su un fiume, viaggiare lungo un fiume, e vedere 30 carcasse di capre decapitate. Uno scenario davvero agghiacciante. Che cosa ne pensate? Vi è mai capitato di vedere molti animali morti, o comunque morti in modi strani? Vi capita mai di vedere degli strani atteggiamenti negli animali, di dispersione quasi? Fatemi sapere tutto quello che volete, io vi do appuntamento alla prossima, e vi auguro un buon proseguimento di giornata.